Unione Fiduciaria Più di 160 collaboratori e più di 7.000 clienti Senta, so che state introducendo delle nuove tematiche nella vostra attività Quali sono e come vi state muovendo per gestire i patrimoni complessi? Ma allora, noi abbiamo intrapreso una fase importante di crescita Legata al fatto che il business tradizionale ha bisogno di essere voluto In questo senso, tra le altre iniziative che abbiamo intrapreso C'è sicuramente quella di dotarci di servizi molto più voluti per la nostra clientela Abbiamo costituito un nuovo team che è dedicato alla clientela più complessa Non necessariamente quella con masse più elevate E a questa clientela più complessa noi offriamo dei servizi ancillari a quelli tradizionali fiduciari Faccio un esempio Facciamo account aggregation Assistiamo la clientela in tutte quelle tematiche che riguardano il well planning Il passaggio generazionale Tutti quei fabbisogni che dei clienti esigenti e complessi come quelli che noi seguiamo Che molto spesso sono anche multibancarizzati Quindi hanno relazioni con le migliori e con molteplici banche, soprattutto internazionali Ecco, più il cliente è complesso, più ha bisogno di qualcuno che si siede accanto a lui E lo aiuta ad esempio a consolidare il suo portafoglio E a verificare quelle che sono le performance dei portafogli Quelle che sono i confronti potenziali anche con i peers di mercato Ecco, questo è quello che noi facciamo Voi immaginate che la complessità nostra è elevatissima Abbiamo 220 banche depositarie, 70 compagnie assicurative Quindi la nostra clientela opera su una vastità di intermediari grandissima I nostri competitor, molto spesso, i maggiori, sono viceversa società captive Quindi con la grande parte delle loro masse Che sono concentrate su una banca depositaria Che è quella principale, che è quella del gruppo Ecco, perché noi siamo la più grande fiduciaria italiana? Anche e soprattutto perché siamo indipendenti Siamo a capitale bancario Perché nel nostro capitale ci sono più di 20 banche Ma nessuna di queste detiene il controllo della società Questo ci consente di essere indipendenti nei confronti dei clienti Ma soprattutto indipendenti nei confronti delle banche depositarie Che non vedono in noi assolutamente un competitor Noi non facciamo consulenza in strumenti finanziari E quindi molto spesso hanno scelto noi come banche depositarie Siamo cresciuti moltissimo nella volontà di disclosure Siamo cresciuti moltissimo con tutti gli scudi fiscali che si sono susseguiti E questo è il motivo per il quale abbiamo questa complessità E il motivo per il quale a una clientela così esigente Dobbiamo dare dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli che avevamo dato fino a ieri Senta, stiamo avendo un periodo particolare In cui c'è una crescita notevole del risparmio Delle famiglie e degli italiani Qual è il ruolo nel 2022 secondo lei delle fiduciarie E in particolare di unione fiduciaria? Sicuramente come dicevo prima Il business fiduciario è un business che deve evolvere assolutamente Perché c'è la possibilità È chiaro che al momento in cui si hanno delle relazioni importanti Con clienti che hanno delle necessità È stupido non provare a soddisfare queste necessità Che sono evidenti Faccio un ulteriore esempio Noi punteremo molto nel 2022 Sull'attività di trust, di trustee Noi siamo una fiduciaria Ma siamo anche trustee di più di 40 trust È un'attività che abbiamo sviluppato negli anni E crediamo sia un'attività Dove un trustee con più di 50 milioni di patrimonio Partecipato da banche con 60 anni di storia Possa fare assolutamente la differenza E dotandosi, come ci siamo dotati, di personale Con degli skills importanti Con esperienza estera Con esperienza in family office internazionali Anche da questo punto di vista La qualità del personale che offriamo alla nostra clientela Farà assolutamente la differenza Un elemento che mi piacerebbe studiare nel 2022 Ancora potrebbe essere anche lo strumento del PIER alternativo Perché anche qua per un taglio di clientela più elevato rispetto alla media del mercato Sicuramente l'intestazione fiduciaria potrebbe essere interessante Altro tema importante che merita delle riflessioni attenti Riguarda la componente assicurativa Componente assicurativa che nel nostro portafoglio cresce in maniera rilevante Così come cresce da tutti i dati anche IPB Voi immaginate che dopo l'ultima acquisizione che abbiamo fatto recentemente Di un ramo d'azienda di una fiduciaria appartenente ad un gruppo internazionale Nel nostro portafoglio abbiamo più di 7 miliardi di polizze assicurative Ecco, quindi anche da questo punto di vista Aumentare all'interno della nostra compagine Le competenze in questo ambito Sicuramente va a beneficio della nostra clientela Grazie mille Grazie a Filippo Cappio Direttore generale di Unione Fiduciaria Per essere stato ospite di Il Flower Grazie ancora Grazie mille Arrivederci a tutti Grazie